Com'è il mio intervento di oggi? Abbiamo visto da vari esempi che è inefficace, c'è bisogno di partecipazione. Allora, quali sono gli strumenti della partecipazione? Bisogna fare un quadro serio delle basi conoscitive che abbiamo, cercare di coinvolgere le popolazioni, coinvolgere le scuole, coinvolgere la rete degli istituzioni della memoria, le biblioteche, gli archivi, i musei in un progetto complessivo. Identità, partecipazione, responsabilità, ma anche partecipazione attiva e valutazione, quindi valutazione dei risultati attraverso una effettiva partecipazione, cioè quante persone riescono a partecipare. Abbiamo visto questa situazione drammatica del terremoto, si sono create mille associazioni, mille reti di informazione, in cui ovviamente l'informazione e anche la confusione regna sovrana. Allora, cercare non di riportare tutto al sistema, ma cercare di fare in modo che i canali siano efficaci. Presenterò velocemente due progetti, uno è Wiki Appennino Centro Italia, cioè utilizzare l'ecosistema Wikipedia per far partecipare le popolazioni a raccontarsi. Il secondo è il progetto ricostruzione trasparente, che è già attivo, è un progetto di raccolta di open data sui dati contabili sulla ricostruzione. Due basi che diano autorevolezza, affidabilità e piena trasparenza a quello che stiamo cercando di fare per il territorio.